è successo dite d'aspettare venom no è arrivato perché è arrivato medal ho messo privato brava soltanto chi invia un link può vedere fra fra è arrivato online no 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 fermi 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 aspettare fossero intelligenti nuova cappano che sono intelligenti c'è ora perché non avete scritto dai mamma mia la cosa più importante l'aspetta descrivere loro prima loro fra tanto media poteva rispettare ancora un po tanto finché non gli dicevi ad arox di uscire c'è prima se cappano b però c'ho proprio mongolo di o a che c***o 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 no vabbè è decorato questo guarda no vabbè no vabbè no ho c***o un buon zetti lo ha appena diciamo è decorato per due secondi non ho visto di lì di tornare indietro capo il tank è rimasto indietro il tank è rimasto indietro si si il tank deve tornare dove dico io di e porca si facciamo ti prende i punti o fa una posta per i punti porco dio che è ritardato chi è occhi da king lo faccio si 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 sto entrando allora faccio aspetta 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 tu ma aspetta tu maccio va in squadra attacco e pain io pax squadra difesa va bene si ma in attacco che c***o metti adesso esce pain pain esce pain esce pain esce la squadra ok 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 vai lui ci avrei essere di non essere di non è stupido no teoricamente di venire prima delle nove no vabbè già scritto l'ho già scritto l'ho già scritto l'ho già scritto dai questo credo sia nata credo sia un clan essere dire davvero capire no e ce l'avete voi in squadra date voi in certi gioco si ma questi qua devono tornare indietro eh no dopo diventare più secondo me è meglio che cambia di squadra attacco io mi tengo a me dal pax compagni secondo me tanto prevale tanto anche tommaccio gioca molto bene in squadra attacco è uscita è uscita è uscita è uscita è uscita vabbè ci avete tommaccio io direi che tommaccio va bene in squadra attacco eh oh scusate la la formazione come vuole finale solo che c'è il rock al posto di pain basta pain al posto di rock basta cosa c'è di riparo ah no c'è il rich pure vero c'è il posto di rock ma che c'è un po' tu fa però organizziamo comunque ti hai detto 20 fai 20 fai 20 30 fai 20 30 comunque questi qua sono dove sono dietro ok sono dietro però il carro è più avanti eh si 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 è già dentro è già dentro che l'hai detto allora mi fai te il riparino a me dai si si è più forza ho abbassato il mic così almeno dove l'hai detto spawno a quanto io spawno ora forte sega addio qualco dovete conquistare e difendere gli obiettivi tutti quelli che potete serio ma già Charlie fanno attenzione no perché ci stiamo inizioni più squadra con il controllo dell'obiettivo lì 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 si chi neva e spara fuori su bravo si ci copre ci sono io ci sono io qua col tank in modo lo copro io guardando io sparano non so da dove no mamma il tank arriva su charlie si chiama faccia il trinetto dove davanti a te davanti al tank spona stiamo su charlie Mi sparo dal mito Atto uno subì Bravo Che poco let's bomb ho fatto quello dentro Charlie, c'era un altro tank hit tank hit due volte fatti due Charlie lì c'è il tank lì ho stato due volte al tank qua qua, dietro il carretto zwisci il carretto tank hit fatti chiamo Charlie fatti chiamo fatti chiamo Charlie non siamo succiati bravo, mi ha fatto, mi ha sparato su di carta che bravo nemmeno che bravo nemmeno vedi a sposti un hit ci siete ragazzi vabbè mi sparano tutti e vabbè me ne ho scavato in fronte i fazzi è steso, si è steso eh no, è un'altra l'altro l'ho mostrato ho fatto uno su B che stava sopra si si ho fatto una kill su B però guardate ho fatto tank hit tank hit 2 volte ho fatto un altro a sinistra 3 volte ho fatto due di Charlie arriva il carro 3 hit sul tank e su C in Fonder ho fatto un altro 2 su B fatti il carro sta fredda a sinistra a sinistra Fungel dai a pushate rega ci sta dando una mano per te ho due, ho due qui due fiume due fiume Charlie due fiume Charlie quello piccolo dai sponco però va anche quello va a due Charlie ah no va va mi avvino mi avvio che ho perso l'obiettivo Cesar ti pucciamo uno, tu facce? gli ho fugi, gli ho fugi fatto entrato pucciaci Charlie abbiamo preso l'obiettivo Bruno Ten, fattimi vedere dove è il tenso Ho due, ho due No, forse è un guard Vedere i carretti, vedere i carretti Ho fatto uno Ho morto con la granata Ah, non ho preso alf, dobbiamo prendere C, veloce, dai Fermiamo un Charlie Avoli, vieni verso Charlie Sta qui a destra, difficile Oh no, mi ha scimmato Prendeteci, voi db, aiutate Tra l'altro sinistro, faccio verso di D Fatto Però prendeteci, andate in capto C, rara Fatto l'altro Dove sono? Qua Vieni La lato river Sta lato rive Sta lato ponte Eh, non possiamo, è tutto sbaccato Il tank è sconato Ho il parto, il tank Stiamo perdendo l'obiettivo Senta, guardati Ho mitato il tank, mitatelo però Io non lo vedo il tank Mi sta hitando il tank, hitatelo anche voi però, eh Vabbè, rega Ho un riparino, rega Ho un riparino, ho bisogno di un riparino Eh, ciao, vabbè, raga, porco Dio, però Sono tre, rega, ma sono tre Ma come hanno fatto da arrivare a getto di noi tutti questi, rega Erano su alfa, avevano lo spawn di alfa Va bene, va bene, ce l'abbiamo off e bravo, mo, eh Ok, spawniamo su B Ce l'abbiamo off e bravo, comunque Ok, ok Copriamo, 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 copriamo middle Middle B, tutto Mi sono spawnato Charlie, ma non spawnati di me, lasciami da solo, fammi morire Eh, mettetevi in posizione Sì, si, ma spawniamo tutti bravo noi Tenga, arriva su bravo, tenga, arriva su bravo Arrivano bravo, arrivano bravo dal medio L'altro ammo box del tank, ce n'è uno Vedo qui, paio ORDO Middle middle, sento ci Middle, l'hai detto, l'hai morte, l'hai morto Che dico, l'hai, sei morto Sì, le tue, le tue Ditemi se il tank ha vable, eh Sul carro Sto andando io Charlie No, non ho più colpi, non ho più colpi My squad, my squad, my squad, my squad, non tu L'ha mancato, che culo No, venga, che fanno inutile di bravo Trattore Eh vabbè, ma io non sono mai morto E ora sono morto Fumogeno, fumogeno, usate fumogeno, tutto tutto Sì, costi sciamo Regà, ma tu ma ci vuole, lo sentite per caso? No Sta dietro la roccia a sinistro di Charlie Sì, dove sono morto io, dietro la roccia Vado a prendere il tank Abbiamo conquistato l'obiettivo Cesar Aspetta, wats, wats Wats, wats, wats Wats, wats, wats Il tank torna su C Vado Arrivano fan, ti senti hit comunque, eh Eh vabbè, c'è venendo Chi è? Ho ucciso, cassa mezzioni Ho fatto uno Abbiamo perso l'obiettivo Cesar No, ragazzi, amatelo però Cassa un mio corpo Mi hai detto solo, prometto, vi chiamo Buona Dai, avete il tank in più Sì, andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Ti vanno a ricarmi, dai Io sto andando con Never su Charlie Qua Vieni, stefene Avanza, Never, avanza Avanza, Never, avanza Avanza, Fra, ci panzeria davanti Avanza Ho fatto uno Dai, noi dovremmo capire Dai, avanzate Qua da me, qua da me C'è uno sottofonte, Charlie No, l'ho ucciso Grandissima idea Riparino, inesistente qua, eh Ma Never scappa indietro, ragazzi Come facciamo a prenderci Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Non so come che fuori faccio Vi faccio riparare lì Guarda me, andiamo a posto Ok, a posto, a posto One shot, la Mildo Spazzo, uno Mildo Roche Dai, andiamo, andiamo Dai, regà, ne ho fatti tre Ne ho fatti Per di qua uno, penso, eh Andiamo, andiamo Charlie Eh, tra, c'è, non matto Oh, per ora le mie squadre andassi su C Eh, vabbè, avanzo, per favore Ah, regà, io a questo punto sto No, proprio una manapolica, eh Ripara Ho fatto uno su C Dai, fatele Dai, faccio, è qua, è qua, è qua Quasi morto Eh, guardi qua, l'avete fatto? Ah, sto bruciando, stanno Vabbè, raga Io ho più di mettervi il punto, non so che fare, cioè No Stiamo trucciati, stiamo trucciati Dai, devo recuperare Ci siamo presi, l'obiettivo Bruno Bel lavoro, l'obiettivo Cesar preso Quasi, dai scappare Sì, due di me L'ho acceso Sul mio corpo Dove ho messo il punto? Dove ho messo il punto? Dove ho messo il punto? Guardate, Rai Qui per C Guardi, ti sponete bravo, no ma Io spono bravo Ok, ok Ok, ok Lo fermo, sono fermo dietro Lo fermo, sono fermo dietro Ho fatto uno su B Ho fatto uno su B Buono Raga, più caldo, però Dio porco Cioè dai, minchia Andiamo in stress Never, non ti sente Doom Doom? Io non sento nessuno, ragazzi Io non sento nel Never Non sento Too much Ma come non mi senti? Ma come non mi senti? Ma come, io non ho mutato nessuno, raga Ma come non ho parlato? Oh! Ma che stia devra? Fai da tre ore che parlo, eh C'è No, no Erano Erano No, no Era il problema di Nat Perché io sono riuscito a essere andata No, no E infatti nemmeno io sentivo Kami, eh Io non Io sentivo solo me dal Bax Io non sentivo Io non sentivo never Too much Eh boh Fra, è privato Soltanto a chi ho inviato il link può vederlo, fra E' privato Eh, scusa Sì, sì, la tattica solita Sì Mi senti alto Mi senti alto oppure mi senti basso Asprello Sì 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 Ma che arma è quella? Devi andare con la squadra di attacco Ma il Mab si può usare No, qui tutti i medici, Medall, volendo, eh Ah, volte a sinistra No, vabbè, 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 vabbè Sì Mi devi prendere prima le munizioni, però, eh Ero Ve le munizioni, però Non high E' vero, è vero Venga, ma c'è qualcuno con l'anticarlo Uno morto Vabbè Twitch, mi stanno ammazzando me, no? C'è a sinistra qui Raga, ho tre lato fiume Si, si, sono tre Raga, ho tre lato fiume Uno con l'antiball, si sa Buono, buono, buono Ho fatto uno Raga, io sono spawnato Sto andando su Alpha io Io sono passato, sono passato Dall'auto Mbox Si, si, sono passato Alpha Siamo già Alpha Vabbè L'obiettivo Baker è andato perduto E' che ne so fra tutti voi che parlate eh Assumite il controllo degli obiettivi nemici Si, si, zizi Basta, basta, non c'è niente Noi teniamo Alpha, voi tenete cazzo Sì, si, infatti è piazzato Vieni, vedete la macchina Vedete la macchina Vabbè, raga, ma c'ha la t-boy Shhh Ma cos'è shhh, dio porco Eh, non sento, bravo, ho capito Possiamo gliele diciamo di non usare quel random Eh, qua mi fanno su Alpha Vita, vita, vita Guarda il push Guarda il push Siamo bravo Non è ammessa quell'arma Ma che è ammessa Capiamo B armi Noi, butti giù questo coso Va Ci siamo presi l'obiettivo Baker Arrivano anche B col destra River Sai, due arrivano Due river arrivano Eh vabbè, non posso non muovere Sì Lato river è morto Ma ha fatto un altro C'è stato un altro lato river Il raga ma sto a spara uno Sto a spara l'altro Molto Attenzione Attenzione Stiamo perdendo la vostra potenza Fatto Ragazzi è quello con la t-boy Dietro l'emobox, dai muretti Da river Sta pushando, è me dal dietro di te Vabbè stai scappando, passa sul Charlie Ssshhh a 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 base 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 loro ne non li ho non li ho passa passa la macchina veloce con smoke dai 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 zoom se ci siete busciamo a capo andiamo abbiamo bravo shop shop l'ho visto uno da che sono dalla base loro dalla base dalla base loro fatti tre fatti tre dietro al tram tram giallo che si si fatto qua 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 dove sto sparando raga dal ponte dal ponte ma non c'è nessuno charlie fra l'ho ammazzato quello che andava charlie push on river raga shop alfa centrali shop alfa centrali nemmeno io sempre due lì due due occhio occhio aiutatemi qui dinamite ho spawnato sulla dinamite ma che bene o vabbè dove c'è un altro ce n'è uno sullo shop al mio mid un alfa never bravo rimango io rimango io rimango io su alfa aspettiamo appena capo e non entriamo noi pax andiamo andiamo c'è uno nel tram c'è uno nel tram c'è uno nel tram eh vabbè raga c'è boh ancora due 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 è il senso per terra raga hai visto c'è un altro metal bravo 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 danno puoi nato più davvero dai davvero voglio vettacolo in c'era c'era delle che lì che Sei di vita, sei di vita raga, è l'unico supporto a destra Ragazzi che c'ha le pizze Io, io compro al fashop Oh c'è, ci stanno qua, sono qua, regà Ragazzi stanno su B, B, B Stanno su B, stanno su B Vabbè regà, ce ne va Vabbè, ciao Stanno a casa, negati di merda Regà, stavo facendo 0-9 0-9 0-9 No, no, regà, io devo, no, devo mandare un messaggio, devo mandare un messaggio a qua Chi è che c'è a rampa? Eh, qualcuno, bravo Ragazzi, qualcuno sta a fare ecotipo No, 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 bravo Io ci sto ora su regole a livello del microfono, sta bene Se qualcuno Sentivo pure io, quindi è impossibile Dai, torno malato, Pax, questo è come ieri, frasi, top Come? Tarra come ieri, fra, ieri ne stavi male, giusto? Eh, tarra come ieri, si gioca bene Eh, no, fra, fra, sto facendo 0-9 Ho fatto 5 tiro e abbiamo fatto 3 Giuro, la madonna, quella puttanazza No, regà, comunque davvero, regà, rabbè, switch mi ha fatto 0-4 Infatti, gli ho detto, tipo, io, n***a, tipo, quell'arma che stai usando, non va bene, cioè, è bannato E lui fa, es per you, less, io, stupid n***a Dai, io, c***o, dal carton Ma sì, ma infatti Preduce un c***o della macchina Anche Oh, qui, qui, oh, dai, dai Cioè, raga, 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 qua, come dobbiamo fare, dai Ma dai, io e te, a destra Ah, emmo, emmo, emmo Allora, cammin, come dobbiamo fare, qua? Eeeh Chi è che mi copre sinistro? Lato sinistro? Non ci sentiamo, praticamente Sì, ma sinistro, sinistro del tank, eh No, 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 perché Prendete e difendete gli obiettivi, quanti più possibile Sì, ma loro sì, quindi Ve lo dico subito Il sinistro, qua, eh Dove era caduto il roulette Lì, fissa Morpulato, su, bravo Bravo, libera Abbiamo ucciso il primo dei loro soldati Scusi di me Venga, c'è uno Venga, c'è uno, c'è uno in cap, c'è uno in cap Eeeh, a destra È dentro, bravo Bravo, l'hai visto? Cheat, non passa nessuno Eeeh, a destra Lato, lato emmo, sì Abbiamo il controllo dell'obiettivo eibolo Ma è passato uno su alfa o no? Così vado avanti Scusi di me Ora contro l'euro, il tiro necessario per dominare questa battaglia Davanti, eh Caricolto Scusi di me, spara anche il cavolo L'hai fatto? Dicci, quale che è? E' il taglissimo la da sinistra Fatto, bravo Alla, alfa Torno io su alfa Vieno a drag Ragazzi, stai facendo un po' il tempo Stai facendo un po' il tempo Stai facendo un po' il tempo Attenzione Laggiù Allerta, abbiamo perso l'obiettivo eibolo Vabbè Quattorabè Arriva a scadri Quattorabè Quattorabè La mia squadra su alfa? La mia squadra va bravo Sono morto io qua, eh Da solo Io son morto qua, il rival è morto Dietro raga Il cazzo Il cazzo Il cazzo Il cazzo Vabbè raga Squadra down c'ho io di occhiali Squadra down Squadra down, perché tu che sei down che fai d'altro con me Ero squadra raga Dovevate sponare Eravate i morti tutti Dietro l'emobox Dov'è? Pugs dietro l'emobox Eh,barilla uva l'altro home-flight Dio cane, ero da sole Nessuno è spawnotto da me Un altro Lato Ello Su Cap di Brava Per niemand, per niemand Vabbè libero libero Ife è libero non rilevati muovetevi squadra blu si muova ok sono morto sono morto perché ovviamente la mia squadra non sta con me si si infatti rimaniamo alfa rega va bene uno come jolly va bene te come jolly medan l'ha incanolato a sinistro charge l'ho fatto l'ho fatto no tu non lo vedi il mio soffro vabbè l'ho fatto l'ho fatto qua qua a destra ho fatto uno ancora sopra di me sopra di me abbiamo uno a destra che ne facciamo questi qua che sono qui si vabbè no no da dietro entrati entrati sto smoccando rega prendo il tank eh prendo il tank never andiamo Charlie spah prendo il tank spah ci flinchiamo spah però alfa abbiamo gente alfa gente alfa gente alfa guarda è che mio corpo sta il caccio alfa morto uno ti buscano 99 di vita ehi ci giro il middle ti bussare uno sky drift ti bussare dopo 2 dov'è quello tuo ammo scusate 50 di vita gli ho tolta ma alfa non ce l'avevamo quando stavamo andando a destra sono morto di nuovo abbiamo perso l'obiettivo ego l'ho aiutato pure io due volte fammi spawnare ok vai ci sono vai vai si si sto sto ecco del primo soccorso non mi spavano non mi spavano qualcuno viene non mi spavano non mi spavano venito primo soccorso prendi e chi so dentro elenchiamo Charlie ma la squadra l'altra è morta piuttosto loro sporano da cino continuiamo a muoverci no non è meglio davanti a me davanti a me uno c'è il Xanax che sta tutto sterno dc camperato non andate ho il tank di nuovo ho due a segnata di Charlie ho due a segnata di Charlie ragazzi non si c'è uno skype di sopra c'è un po' Sto' flancando i gianni ma hanno ammassato da me Spunate da me rega Pazzo, spona da me, ed entra su C Raga, non mi hanno detto subì Mi sa Tenkit Eh, push, push, faccia la vanteria Dietro di me, ecco qua, dietro, dietro, dietro di me, raga, eh Da te, metal Non posso, raga, dire Per il mio ruolo Va, touch up Eh, ma c'è io, ma Sono rimorto io, eh C'è il carro su C, eh Che mi segue, ovviamente, io non mi riparino, non mi niente Bravo Io c'ho uno di vita, eh, non posso non ponteggiarlo, purtroppo Da, 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 da Sopra? Proprio una merda, rega, cioè Una merda, eh Sì, ma era già persa, quando ero da solo io, da solo, ho perso il tempo, perché ero da solo Tutta la mia squadra era morta, nessuno è sponata da me, proprio neanche per scherzo Noi, no, avevamo solo alfa, quindi noi siamo andati su B, poi quando siamo arrivati su B Eh, è quello No, 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 va bene Sì, sì, infatti Beh Ma, mamma mia Fra, io lo chiamo, ma nessuno spona su porto, secondo me C'è Eh, dimmi, parli, parli Che mancedere No, vabbè, Maria Comunque Kapla Kapla Io te l'ho detto che pushavano dal lato alfa, eh, infatti l'hanno fatto Una della mia squadra deve stare lì fisso, eh, a coprire quel fleco mentre io sto davanti No, non sei stato lì, Fra, quello che intendo io magari non lo capisci, Fra Non lo capisci Esatto, esatto È quello che devono fare, è tutta sinistra, perché loro fanno il... Aspè Invitate cia-ciap Invitate cia-ciap Eh, se... Ok, ok Ha già switchato, ha già switchato Ha già switchato, ha già switchato Tedum Eh, ma non ti vediamo dall'altra parte, bro Ditemi quando posso switchar Zoom, dimmi quando posso switchar No, no, infatti stiamo aspettando te Pure a me mi ha invitato a un molly Ok, io ho switchato Entrate voi se volete Ok, se ci siamo Vabbè, vabbè, raga, la squadra attacco quella di solito fa un lavoro sporco, quindi c'è, dai su Aprite una squadra, never, fai una squadra nuova Vai, 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 entra, entra da me Quattro Vai, vai Sì, infatti Sì, però, cioè, quando succede una cosa, non è che dovete... Vai, vai, entra, entra Entra da noi No, 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 cazzo dico No, no, due minuti ogni volta, è stata ecà, ma che ci avete? Oggi, cos'è? Suga sera... Cioè, dicono una volta e basta Effettivamente No, ti dico anche ora che ti vedi di cena a casa No, nel dubbio c'era live, raga, eh, lì possiamo proprio smascherare tutti, eh ma mai come mai si sta preso subito beh oi switch a pain switch a pain alzatelo il microfono io mi faccio switch a pain beh il contrario ma anche te doom noi abbiamo i spawn favoribili no 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 switch a switch a switch a switch da noi almeno il random ce lo tengono loro ma dai va va entra da me entra da me sono da solo io sono da solo ma dove lo vedi il random scusa no vai la mia squadra del suo entri da me pax cami e metal comunque tipo prima raga su arras su arras ero senza riparino e quindi poi sono morti ma c'è metal non riuscite non riuscite a prendere charlie scusate però vedete prima ma voi riuscite a prendere bravo quale è il problema io mi campero allora ma dove volete andare subito raga vi dico subito vi dico io non posso tentare nessun push se non ok le altre ipotesi se voi non riuscite a prendere bravo eh però infatti se non riuscite a prenderlo è una ipotesi la mia se non riuscite se non riuscite dobbiamo proprio per forza elevare il carro dal lemon box perchè lì è immortale quel tank eh perchè sono usciti due di loro non sto scherzando fra eh io spacco il coso però uno uno di fanteria deve pushare il tank di destra dai prendete prendete e io sono usciti vabbè io sono usciti nella staglia e stavo con tu vabbè 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 ma che dici ma anche perché one shot l'antitank è uguale fra ti toglie tipo quasi metà vita con un colpo anche se non ti becca ti fa comunque danno Xanax di canna stava stesso in mezzo a Bravo ho detto ho sparato due colpi poi l'ho scappato qui io l'ho detto facciamo andare Kammy in squadra d'attacco almeno siamo sicuri che la squadra gira non è vero non è vero gioco in attacco anche non è vero bravo ma dove stavo? ma dove stai? col boys no? col cecchino manca uno tra l'altro no ma probabilmente ci stanno facendo perdere tempo per non capare la bandiera alfa perché non hanno il abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie vabbè tieni conto che finché non escono i server ci sarà così alla fine bravo no no ci prendiamo la vittoria anche di questa di porco scende il percentale quella di Okane quanto stiamo vincendo attenzione l'obiettivo Baker è stato perso torniamo di nuovo a Mala ma a me lo vinciamolo di nuovo i sai dai buon ricoglionazzo bambina sega di Okane quale cosa c'è lei ha ricordato queste parole Xana che si è fatto la clip su di me perché mi ha tornato mentre io ho smesso di spararci qui vabbè se il clonazionale è che gioca più di che abbia ai mondemolli vabbè ci credo me l'ho colmato adesso l'obiettivo Baker è nostro a cazzo ma cerchiamo di urlare di meno raga perché poi non sento più niente ha passato il mic no vabbè abbassa il microfono se tu ce l'hai allora abbiamo preso tutti gli obiettivi ma il loro ottavo che sta facendo sta pensando ma che cacca a rosare no ma io come faccio gioca questa gente qui ma non so più ma per il voler che in che vi stanno qui la mamma la bellissima ammazzata e ci vediamo a te di fila voi qui una volta mi sono casato poi mi sono sate giusto c'è non apre l'opi inter non apre l'opi me devo per forza incazzare c'è tutto quello che non dico in partita lo dico ho nella premordi o dopo la partita poi giocando come si è giocato mi freddo ma tu ma stai tranquillo che dopo quando faccio il monte mi rilasso di nuovo a vedere le critiche campione non allora e noi rifacciamo tribunica bene ebbè quindi per questo allora diventa automaticamente ma vedi che c'è il primo che fa il coglione c'è il primo che ha preso la macchina su guarda che c'è stupidissimo guarda che c'è il rubber non lo conosco però c'è so che fa sempre le canzoni ma io non ho capito se questi che stanno contro eh eh infatti eh appunto ma sono questi contro come sono a livello di bravura di skin ma comunque sono 7 mi sa che dobbiamo farli capare però io vedo che sono in 16 tipo il server è pieno 16 su 16 eh allora c'è quello bugato davvero facciamo unito quello quindi doveva andare su bravo però venite medici su bravo quali cappare obiettivo eibor pezzo non è tanto forte no no si è peggiorata no crack è peggiorata ma non di modo prima si è peggiorata su alfa di no allora no 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 che è successo doom madonna abbiamo perso l'obiettivo charlie no vabbè no il nostro leader che ti fa cliccare in attività devi dare esempio a me però se tu ma entra cioè perché quello non entra due volte ti fa sta fa entra ma perché capo hanno dovuto dai prendete altri da beh ci va bene ben fatto abbiamo preso l'obiettivo charlie vabbè lo scrivo io ogni giorno ieri che c'è il telefono è mio che fa schifo sta scarico ogni giorno lo scarico dark negato chi sono i 4p ho scritto still looking for ti è autorea di ok oh ma che vuoi te un pesciamoc vedi vedi mo pregato i possibili 10 minuti ma cosa c'avete stasera oh ma che cazzo stai calmi 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 per necione negato calmi è in the back Ma roba il switch, tuo sole è appopolato orcola Ma come? Ma come? Ha fatto 30 bombe quelle, fortissimo Ma come è? Quello ha fatto 2-10 Aspetta, come vuoi che si chiama quel team Lì del camuffamento? Io lo trovai quel team comunque, ritengo a scherzare Com'è che si chiamava il team? I TET Comunque i più belli ora sono il trattamento sanitario obbligatorio I TET I TET I TET Occhio Trattamento sanitario obbligatorio Abbiamo preso l'obiettivo Baker I TET I TET I TET Voi l'avete sentito quell'audio mistico I TET I TET Ma mia che hai Eh Avvistati un fobarane Eh D D Ok ok c'è metal e gli altri vanno e anche io va bene capo dai oh vai che tanto stiamo sopra 2 a 1 signore oh ste zanzori di merda mamma mia no no non facciamo gli stupidi non ci abbassiamo il loro livello no raga ma secondo me quella la usa la keyboys quindi non vengo su B bene allora rimango C no raga si usa la keyboys fisso esatto se devo andare avanti sia fanteria che riparino dietro di me così almeno posso andare in avanti no raga no no non ci può fare non ci andare non ci andare perché prima di tutto noi siamo andando voi siete di meno su Charlie no dipende dipende se il carro tipo vuole prendere voi e voi cioè io gli rompo il cazzo ma secondo te Frank non ho mai visto non ho mai visto un carro venire venire da lato no no non c'è bravo tipo su emo box ai tarvi da emo box del tank però loro secondo me saranno una maggioranza dal tuo lato no subito ha ruotato alfa raga nel caso comunque io consiglierei vabbè cammini tipo se vai subito a destra così a me mi tolgo da leppo oh raga tutto a destra subito a ruotare su alfa nel cazzo che noi subito sponiamo su alfa alla rocciona di c così almeno confusione dio pane ma quando abbiamo iniziato a giocare confusione dai ok ho tolto il repair minchia ma ha dato un hit pazzesco quel tank no no ho hitato il tank 3 hit 2 hit 2 hit al tank gli ho dato eh non vuoi pushare vai 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 2 hit 2 hit potuto 4 hit dove il tank metal 2 hit 2 on il rua nello asule adoro ti non parola Che cosa? Dove ti ho messo il punto? Dove hit al tank eh Controllo un po' le mini 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 Ripara ripara, passami dietro ripara Middle, calmi Trattore, trattore Abbiamo abbastanza obiettivi da controllare la battaglia Si lo so ripara 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 Lasciate dietro di Charlie, scusate Never sono due dietro Ho capito ma c'ho anche il tank eh Eh io sono morto qua eh Grazie Grazie Dov'è su Charlie raga? Eh raga allora è sopra Nell'angolino In alto Perché? E' lui Bravo Dov'è, dov'è quello? Morto, morto Un altro su mio corpo Ho qualcosa Il tank è rivero E' io Il tank è rivero No, è stancho Mi trovo la roccia che non c'è Mi trovo la roccia di Charlie Non so Non so uno sul mio corpo ho fatto uno su C dammi spawn abbiamo perso l'obiettivo Charlie il fiume, il river, che copre il lato destro però c'è gente a destra occhio che il tank è davanti ecco del primo soccorso il tank è dietro abbiamo preso l'obiettivo Charlie nev rimani lì io ti copro a destra è morto uno dietro al carro pushatelo se volete lanciate il fumogeno no 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 il tank il tank due due occhio dietro Camille ci sono due Charlie buono arrivo io col tank adesso allerta l'obiettivo Charlie è stato perso arrivo col tank no 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 teniamo su C teniamo su C ci sono io col te l'ho fatto Charlie morti tutti Charlie libera bella l'ho liberato ma lo risponso sono rimpolato sono rimpolato dietro la roccia vai da no questo c'è il mio corpo su grazie dalla roccia ho fatto uno fatti due fatti due fatti due fatti due fatti dietro io due aspetti hai questo fatto guarda c'è lì dietro chai fatti Non c'è cosa succede Ma che ne ero tanto? Da qui ti trovate, va Controllate se le mine, le mine sono importanti Ok, vada, non c'è più Io vado sopra a vattare la lama Uomo, arrivo sopra a vattarvi la lama Ok, ok Il tank, no Tampi, tank, tank Quella che è spottata laggiù, cos'è Kami? È un tank, è un tank, è un tank È un tank, è un tank Lo so, lo so che è qua C'è il tank Ok Zona fiume, zona fiume, tu guarda, guarda di qua Ho fatto una Morto Andiamo, 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 andiamo Ho fatto un sancto Tempi 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 Dammi dietro Medall, do una mana B Tenkit Tenkit Ripara 4-1 Ponte Alfa, ti vedi, mi sono arrivato più bravo L'ho fatto, l'ho fatto Sono tanti, mi fanno Raga, io sono già Dove sto più grande ce n'è uno Fattoria, sì, sì, fattoria Venga, mi puoi lanciare il carro Fattoria, ragazzi Fattoria, c'è anche il carro, c'è anche il carro, si è visto bene Qua, qua Non è pericoloso C'è un po' qui C'è un po' qui da qui, ragazzi C'è un po' qui Venga, un po' qui Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Palla finestra Tenkit, ragazzi Venga, arriva uno sul bravo dalla macchia grande Gli ho tolto due volte il tank, eh Arriva uno sul bravo dalla macchia grande Arrivo E poi Albero di bravo, regalo è stato Dove è il tank? Ci sono pure io Dobbiamo Venga 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 Hai Venga Sì 8-1, si chiari, doom era 85, chiedi op vabbè doom c'è solo una morte una morte c'è il doom, una morte I'm on the molly, 2-8, buono vai col supporto, fra lì non voglio spammi a merda, non fai passare io io io, io vado edwitch a destra, tu laci mhm mhm dobbiamo conquistare e difendere il maggior numero di obiettivi uno è morto al mido, uno non dato, abbiamo preso l'obiettivo antus dobbiamo la prima perdita lato river, lato river, lato river lato river ci sono lato river fatto fatto è quasi morto uno middle, middle B, occhio, dalla nostra home flag qua, push a B, ammo box buono quasi sotto le scale, la middle venga, dietro la mano, dietro la mano dai, buono linea, linea, lato terra con gli obiettivi che controlliamo, possiamo dominare la battaglia lato river, lato river, lato river lato river, no, no quanto uno è gliciato, è gliciato guido al camion guido al camion guido al camion è morto, dammi, 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 raga è lui faccio nel giro dove, dove? fatto da river, raga, da river ok, ok, sto, faccio una river ah, tutta a sinistra, dio, porco fatto una river, dal middle ok, ok, uno, uno, uno buono, calmo c'è uno qua davanti c'è uno qua davanti L'ho fatta, l'ho fatta L'ho fatta, l'ho fatta L'ho fatta, l'ho fatta Pusciano, pusciano, pusciano L'hanno fatto, l'hanno fatto, sono due Uno in slot io cazzo di l'uomo fa raga volete che faccia il giro con i da guai a skin pulsano qui al lato leader copro io il lato tuo l'ho ucciso no 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 erano due oh b raga quindi da dove è cazzo andiamo 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 mi hanno visto su cia eh fax facciamo un giro morto bravo dov'è dov'è cazzo morto cazzo morto cazzo morto cazzo faccio uno su cazzo morto cazzo l'obiettivo cesar è nostro qua qua arriva uno morto cazzo che ucciso cazzo 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 Sono io, sono io sopra Morto uno, Sean Sono sotto lì di destra Non c'è nessuno Sono sotto lì Non c'è nessuno Fa un shot Sono due, sono due È LOW, è LOW, è LOW è uno solo è low wow che shotter lì è sdraiato davanti a te buono è morto ce la fai Pax? lato team lato team secondo me arrivo qualcuno lato team 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 bella lì lì proprio esatto andate a casa coglioni andate a casa legate al inferno porco dio negati Dio malai Dio stramalo do una guerra la squadra da 4 nada papu ora vengo con il tanque in Arras al comienzo dice ufff maté a tutti perché basta che ho il reparatore che sta fico e tra i milo codi sui mortali si vabbè oppo pesche o pesche po po o fra me non ho commentato la radio per cazzo di occhiano non posso che non lo fa senti qua no Dio dacca beh oh raga comunque ora visto che prima c'è Nevere è morto da sulla sinistra Nevere tu vai con lui ma adesso non più adesso non più io adesso controllo destra adesso controllatemi tipo la parte laterale delle ammo box del tank non mi passa nessuno da lì fra sono immortale che tanto mi pusciano in bocca bene io flanco alfa io flanco alfa si si e tanto su b ci hanno team tantissimi da le papu ai 9 qua inovemo quanti di gatto l'abbiamo perso prima? 100 dobbiamo conquistare e difendere il maggior numero di obiettivi si si bel lavoro obiettivo Cesar preso ok è uscito a darmi una hit ed è tornato indietro primo nemico fatto fuori il nemico ha il controllo della battaglia strappate quegli obiettivi ne assurdo che sia uguale che sia uguale infatti non un po' hai fatto uno in B Mi pushano a me eh Quindi raga Approfittatene Solo saprei B Tornoci Ho fatto uno C Dov'è il carro? Tenkit Tutti i sabbi Da lemon box Da lemon box Di qua Fatto Mi pusha il tank Aiutatemi Oh voi Riuscite a darmi una mano Niente A metà Ha pochissimo di vita Il tank Morto Buono GG boys Obiettivi necessari Per dominare Questa battaglia Io ruoto Io ruoto Morto il tank Ruoto Camillo Buono E Backs backs Sponame sono su A-MOBOTS sono su A-MOBOTS in centro sono su A-MOBOTS sono su A-MOBOTS è 48 di vita beh medico è medico ancora uno dalle scale metal sono due vabbè vabbè Qua è il tank eh? Pazzo, vuoi andare un attimo a destra Attenzione, stiamo perdendo l'obiettivo Bruno Qui c'è la Charmin Pucciano Charlie, tre, quattro Dai che non sto facendo accappare Sono quattro assalto Fatti, 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 fatti Fatti uno, fatti Fatti uno Fatti uno Dietro, dietro, dietro C'è fanteria lì, Cammy Dove ti ho messo il punto Ecco dai, veloce, veloce Mi sta ritando Non so da dove Alla, giù a sinistra Agoni, vedi Lo sento più a sinistra Ammo, dammo Lo salutiamo, raga Eh sì, sì Alla, giù a sinistra Seguami Siamo ancora a rimontare Sì Raga, sblocate, sblocate, sblocate bravo Dottore, ci sono i nostri raga! Però c'è uno solo sul tower M oh c'è anche il tank, ho pushato anche il tank c'è anche il tank a farmi spawn bravo ammo, bravo magic cento di danno non è morto boh babbo uno sul mio cadavere è di qua il tank torna su alfa dove cazzo sto pushando il shaft da dire buono bravo bravo ok prendo prendo sono appena spawnato faccio attenzione bello fatto coperti gli spawn abbiamo conquistato l'obiettivo c'è di presciati tutti su bravo soldati abbiamo perso l'obiettivo andiamo quasi sconfitti dovete reagire aspetta ho sentito pushare su c e si, si, chi, 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 chi puxando chi va dietro charlie anzi da sinistra da sinistra charlie verso bravo lo sapevo raga ve l'ho chiamato prima l'obiettivo c'è l'obiettivo Cesar è stato perduto e non 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 ma non 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 la chiamata camillo sopra di me sopra di me sopra di me ecco sopra Teniamo C, teniamo C, pusciano C. Dalle scale di ammo box, madonna. Questo è spawnato e morto. Occhio che vi piacciono il C4, sei fermo, medal. Buona, vinta. Minchia, minchia, sudatissima, eh. Tenco P, ragazzi. Tenco P. Tenco P. Ho fatto il mio dovere, raga, eh. Non ho neanche fatto schifo. No, no. Come si... Orgolato. Come si... o legna... O legna... O legna... Grazie.